Siamo in pre-finale. Abbiamo una grandissima ospite. Una cantante giapponese, una cantante giapponese che si chiama... Guarda, guarda, guarda. Si? Si chiama Jitsu Yakuzo. Jitsu Yakuzo, prego. Un applauso di coraggianamento per voi. Cara Jitsu. Intervista la tua. Cosa ci presenta? Canzone. Ah, una canzone. E ha un titolo questa canzone che lei ci presenta stasera? Spritz Factor? No. Quindi potrebbe forse... Non so, farsi un... Che? Ah, sonno? Scarto voce. Ah, i vocalizi sono. Va bene. Allora, senza titolo Jitsu Yakuzo. Jitsu Yakuzo. No, Yakuzo. No, Yakuzo. Yakuzo. Ah, è così. Il tipico nome giapponese Yakuzo. Dica a lei quando vuole perché è bene. Quando è pronta. Fa impressionante. È un po' aggine, è un po' aggine. So che non ti sa... E' un po' aggine. È un po' aggine. È un po' aggine. E' un po' aggine. Fa tutto in città. Fa tutto in città. Fa tutto in città. Cercare al bacalà. È un po' all' 그런데 in città. Forse non ti sa... Non ti sa che dopo sbuzzano poco al fiore sul bacala forse non ti sa ! Niente sa che oggi faccio becala... No, 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 no. Grazie.